Ammolito per simulazione qui, e qui la spinta c'è, da parte di Mugnoz. Una trattenuta, trattenuta col braccio sinistro sul sinistro di Pazzini. Samuel Eto' contro Siricu. Eto' 3-2! Che giornata per l'Inter! In sicurezza, Eto' ha mirato al palo alla destra di Siricu, che aveva intuito le intenzioni dell'avversario, ma è il tiro troppo secco, preciso, che è solo preoccupato di mirare l'angolo giusto e dare la forza giusta al pallone. Tre gol in mezz'ora per l'Inter, due volte Pazzini, e poi il nuovo arrivato si è procurato il calcio di rigore per il fallo di Mugnoz. E Samuel Eto' come sempre non sbaglia dagli 11 metri, 3-2 per l'Inter. Che grande partita, che grande rimonta! Veramente, rimonta straordinaria, perché anche se l'Inter aveva costruito nel primo tempo potenziali occasioni da gol, però non aveva l'impressione di poter sfondare con questa facilità, come ha fatto nel secondo tempo, con un atteggiamento tattico, bisogna dire...